Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In apertura del nostro telegiornale la cronaca con il femminicidio di Gravina resta in carcere. Il 65enne ha accusato di aver ucciso sua moglie. Lo ha deciso il GIP. Sentiamo. Resta in carcere il 65enne Giovanni Lacarpia accusato di omicidio volontario aggravato dal legame di parentele premeditato della moglie Maria Arcangela Turturro di 60 anni. Lo ha deciso il GIP del Tribunale di Bari Valeria Isabella Valenzi che non ha convalidato il fermo ma ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare. I fatti risalgono la notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre. Lacarpia avrebbe prima dato fuoco alla macchina mentre la moglie era ancora all'interno e poi quando la donna ha provato a fuggire l'avrebbe immobilizzata a terra causando le fratture alle gambe e al torace. La donna è poi morta nell'ospedale di Altamura in cui era stata trasportata. Il GIP nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare ha rilevato il pericolo di reiterazione del reato dovendosi ritenere in base alle circostanze del fatto che l'indagato sia soggetto estremamente pericoloso si legge poiché è violento calcolatore privo di ogni inibizione. Per Lacarpia è stata disposta la carcerazione per contenere la libertà di movimento dell'indagato al fine di allontanarlo dai familiari e prevenire ulteriori manifestazioni delittuose. Il 65enne scrive ancora il GIP inferito sulla moglie riprendendo la condotta pochi secondi dopo essersi fermato a dimostrazione dell'intenzione di eliminarla verosimilmente per impedirle di denunciarlo. E per l'uomo che soffre di problemi neurologici non vi sono seri dubbi in questa fase in merito all'imputabilità dello stesso. In una prima fase il 65enne avrebbe detto di aver cercato di assistere la moglie dopo che a causa di un incidente la macchina aveva preso fuoco. Ma per il GIP si tratta di una versione di comodo perché emerge benissimo dal video girato da una ragazza che passava in quel momento insieme ad alcuni amici che l'uomo non ha minimamente messo in sicurezza la moglie ma che l'ha al contrario aggredita. Inoltre, conclude, i primi rilievi sull'origine dell'incendio suggeriscono che questo abbia avuto matrice dolosa. Voltiamo pagina. Primo giorno di mensa per i piccoli studenti delle scuole Corridoni e Piccini. Il prossimo lunedì si completerà il primo lotto ma la tenuta del servizio è tutt'altro che certa. Serena Russo. Penna al pomodoro, pane e prosciutto cotto. È il menù del primo pasto per i piccoli della Corridoni. Unica scuola insieme alla Piccini per il momento partita con il servizio mensa per un totale di 150 pasti consegnati. Insieme a loro, come annunciato, l'assessore comunale Vito Lacoppola, che non si sbilancia sul prossimo futuro e in un gesto quasi scaramantico incrocia le dita prima dell'assaggio. Speriamo che il servizio possa continuare in questa maniera e quindi i nostri bambini e le nostre bambine possano vedersi assicurare il loro pasto a scuola. Quando si partirà con il secondo lotto? Sono in corso le procedure, non sappiamo, dipende dalla disponibilità anche delle scuole nel mettere a disposizione a livello logistico organizzativo anche il personale. Entro lunedì dunque partiranno tutte le scuole del primo lotto. Per il secondo, quello destinato alla maggior parte degli studenti, alcune scuole si stanno già organizzando ma il timore che il servizio possa subire un ennesimo stop è dettato da un nuovo ricorso, stop che condannerebbe nuovamente le famiglie al caos, spinge l'amministrazione alla massima cautela. Ed è proprio per questo che dal comitato mensa, rappresentato quest'oggi da due genitori, si continua a chiedere l'apertura di un tavolo di discussione con il sindaco Vito Leccese e soprattutto la possibilità di tamponare l'emergenza con il pranzo al sacco. Noi come genitori siamo anche preoccupati perché è vero che oggi si avvia per il lotto 1 e lunedì prossimo per il lotto 2 il servizio, però ci sono le pronunce di Taro e Consiglio di Stato su diversi aspetti che ci saranno nelle prossime settimane e quindi il nostro timore è che in qualche modo possa interrompersi il servizio e quindi ricadere negli enormi disagi. Sono molto, non solo dispiaciuto, ma anche molto arrabbiato perché partire con un inizio di mandato da sindaco in questo modo non riuscendo a garantire un servizio dal mio punto di vista fondamentale per rendere, per conciliare i tempi vita, lavoro delle famiglie è una cosa assurda e purtroppo ci siamo ritrovati, come è accaduto anche in passato in un groviglio e in un contenzioso inimmaginabile che non ci ha consentito di partire da subito con questo servizio e noi stiamo cercando delle soluzioni comunque oggi è partito, come diceva, ricordava il radioascoltatore il primo lotto, parte del primo lotto laddove gli istituti scolastici sono preparati per garantire la rifezione scolastica noi attendiamo il 15 di questo mese per capire se la sospensiva richiesta da una delle due contendenti sarà accolta dal tribunale amministrativo dopodiché, voglio dire, nell'emore del definitivo giudizio da parte dei tribunali amministrativi stiamo pensando a delle soluzioni alternative che certamente concorderemo potrebbe essere, però come giustamente diceva il radioascoltatore dobbiamo avviare un tavolo di confronto con le famiglie con la ASLE e con il provveditorato agli studi perché ovviamente tutto ciò deve essere non solo autorizzato ma deve essere compatibile con le norme vigenti in materia di organizzazione scolastica io sono molto dispiaciuto e chiedo scusa umilmente alla città per questa vicenda e intanto monta la protesta dei genitori che hanno organizzato un sit-in previsto per martedì 15 ottobre alle 13.30 proprio in corso Vittorio Emanuele di fronte a Palazzo di Città oltre 4.500 famiglie annunciano in un comunicato stanno attendendo inermi da quasi un mese delle certezze su una partenza organica e continuativa delle mense scolastiche ad oggi ci si muove nel caos più totale fra ricorsi al TAR che potrebbero modificare di continuo gli equilibri avete visto il servizio che vi abbiamo mostrato sulla refezione partita in deroga e soltanto in due plessi afferenti all'8-1 navigano invece a vista personale i genitori dei plessi dell'8-2 prendiamo atto, concludono di essere ostaggio di una situazione mal gestita che nelle prossime settimane potrebbe subire ulteriori stop e di due aziende che pur di farsi la guerra stanno creando un disagio economico e gestionale a 4.500 famiglie della città Andiamo avanti con l'inchiesta della Procura di Bari su un ex dipendente di Intesa San Paolo che avrebbe effettuato oltre 6.000 accessi tutti abusivi a conti correnti di VIP e vertici di governo Avrebbe effettuato oltre 6.000 accessi tutti abusivi a conti correnti di nomi noti e vertici del governo per questo la Procura di Bari ha aperto un'inchiesta su un ex dipendente di Intesa San Paolo a riportare la notizia Il Quotidiano Domani che spiega che nel Milino ci sarebbero militari e VIP e soprattutto politici a partire dalla Premier Giorgia Meloni sua sorella Rianna, capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia e anche l'ex compagno, il giornalista Andrea Gianbruno i ministri Sant'Anchè, Crosetto il presidente del Senato, Ignazio Larussa il procuratore della DNA, Giovanni Melillo sono solo una parte delle migliaia di nomi titolari di conti correnti ricostruisce il quotidiano svirciati e monitorati dall'ex dipendente della banca la Procura sta cercando di ricostruire il perché di questi accessi ma l'interrogativo al momento resta senza risposta il funzionario licenziato lo scorso 8 agosto dopo l'apertura di un procedimento disciplinare rischia grosso visto che potrebbe aver violato la segretezza di dati ipersensibili su personalità politiche la mole degli accessi sarebbe enorme a differenza di quanto accaduto nel caso dell'indagine di Perugia sulla fuga di notizie non si tratta, spiega ancora domani di segnalazioni di operazioni sospette della UIF o di dati di inchieste giudiziarie ma di notizie molto più private e delicate come i movimenti dei conti correnti gli accessi sarebbero stati quasi 7.000 tra il 21 febbraio del 2022 e il 24 aprile del 2024 e avrebbero più in particolare riguardato gli oltre 3.500 clienti portafogliati di 679 filiali di intesa San Paolo sparse in tutta Italia fuori dalla compagine governativa risulterebbero essere stati violati i conti dei governatori rispettivamente di Puglia e Veneto Michele Emiliano e Luca Zaia del procuratore della Repubblica di Trani Renato Nitti di ufficiali dell'Arma e della Guardia di Finanza l'indagine è partita quasi per caso grazie al lavoro della sicurezza della banca che si accorta che qualcosa non andava adesso conclude domani toccherà alla magistratura e al garante per la privacy dove pende una denuncia della banca a far luce sulle possibili conseguenze di quanto accaduto intanto c'è un comunicato di banca intesa che parla del comportamento del dipendente non in linea con le procedure interne e la normativa di settore questo è quello che è emerso nel corso dell'ordinaria attività di controllo incluso un articolato sistema a volte individuare eventuali comportamenti anomali o a rischio relativi alle consultazioni effettuate dai dipendenti della banca autorizzati al trattamento dei dati della clientela questo lo fa sapere intesa San Paolo Sistemi che fa sapere la banca hanno funzionato oltre ad aver adottato tempestivamente nei confronti del dipendente le opportune iniziative disciplinari la banca aggiunge di aver provveduto ad informare le autorità competenti adesso andiamo avanti con le notizie dal nostro sito www.telebari.it ci colleghiamo con la postazione social dove c'è per noi Itaro Cinquepalmi Itaro buonasera Sì Alessandra la procura federale della FIGC ha archiviato l'indagine nei confronti del calciatore del Bari Nicola Bellomo relativa a un flusso di scommesse anomalo sulla sua espulsione nel corso della gara di ritorno dei play-out di Serie B dello scorso 23 maggio che Biancorossi vinsero con la Ternana dalle informazioni raccolte dalla nostra redazione tramite legale del calciatore Nicola Floro c'è stata l'archiviazione del caso perché non sono emersi elementi che costituiscono un illecito disciplinare e andiamo avanti ha ricostruito tutti i passaggi della sua esperienza nell'FC Bari 1908 ricordando di aver contribuito con fondi propri a due ricapitalizzazioni per un totale di 15 milioni di euro respinto all'accusa di bancarotta fraudolenta e il contenuto della deposizione di Cosmo Giancaspro per il quale il fallimento sarebbe stato causato dal provvedimento della Covizoc e dallo svincolo di tutti i calciatori sotto contratto disposto dalla federazione e chiudiamo l'operatore di sharing Mobility Pickerent ha disposto il rientro di tutti i ciclomotori elettrici e l'interruzione temporanea del servizio di scooter sharing offerto da quasi due anni a Bari a seguito di una serie di furti di batterie e atti vandalici subiti nell'ultima settimana nello specifico sono state prese di mira le batterie degli scooter con cavi di velti e componenti danneggiate rendendo impossibile l'utilizzo dei mezzi l'obiettivo di Pickerent si legge in una nota è quello di trovare una soluzione e tornare a offrire il servizio bene con questo è tutto per oggi a te buona serata grazie Italo noi andiamo avanti con la pagina politica scintille tra il parlamentare della Lega Davide Bellomo e il consigliere regionale e comunale Fabio Romito vediamo cos'è accaduto Fabio Romito resta fedele al mandato elettorale lavorare per il territorio come consigliere regionale e comunale e preferisce rispondere con i fatti alle critiche del parlamentare della Lega Davide Bellomo che in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno lo ha accusato di riconoscenza invitandolo a parlare di meno e lavorare di più il livello della contestazione interna al partito non appassiona l'ex candidato sindaco che alle scorse amministrative è riuscito a rianimare un centrodestra fino a qualche anno fa quasi polverizzato a innescare la bordata di Bellomo contro Romito l'ipotesi di corteggiamento da parte degli altri partiti di centrodestra ipotesi che però al momento non alcuna conferma Romito è impegnato soprattutto a fare opposizione a Emiliano e Leccese le due ultime battaglie portate avanti riguardano l'affitto da oltre 24.000 euro che la città metropolitana sborsa per la sede temporanea della scuola Romanazzi e il caos che sta ormai esplodendo a Bari sul servizio Mense poco interessato dunque al fuoco amico liquida la faccenda con un posto sui social che ha raccolto consensi da parte di molti esponenti dei partiti di centrodestra il grande successo conseguito con l'elezione di Domici Liberti alla città metropolitana grazie al sostegno di circa 30 amministratori comunali della provincia di Bari pensavo potesse creare allarmismi tra gli avversari del centrosinistra mai ad un collega di centrodestra scrive Romito probabilmente la frustrazione di Davide Bellomo dovuta al fatto di non avere più alcun consenso sul territorio lo ha spinto a produrre dei volgari attacchi verso di me e un gruppo di amministratori che con grande impegno affronta ogni campagna elettorale con coraggio e risultati finché a rappresentare Bari e la Puglia in Parlamento aggiunge il consigliere regionale ci saranno persone prive di radicamento sul territorio la lotta con la sinistra sarà sempre impari e i partiti di centrodestra perderanno rappresentatività poi la stoccata finale ai commentatori da salotto politicamente ed elettoralmente ininfluenti rispondo come sempre con il sorriso e con la consapevolezza di aver sempre lavorato per la gente senza aver ricevuto nulla in eredità familiare o per rendita dinastica Matteo Salvini e Roberto Marti lavoratori instancabili meriterebbero parlamentari di ben altra statura presentate questa mattina a Palazzo di Città due nuove misure per agevolare l'inserimento al lavoro dei cittadini baresi Cristina Ferrigni Tiambara e Tiaperd la fatica sono le due nuove misure di politiche attive del lavoro per il triennio 2024-2026 presentate a Palazzo di Città per supportare i cittadini in cerca di lavoro e non solo nello specifico la prima misura prevede il finanziamento di brevi esperienze di apprendimento on demand per aiutare i baresi a sviluppare abilità e competenze necessarie per la crescita professionale una dote di apprendimento fino a 1000 euro destinati a cittadini dai 16 anni e con isei inferiori a 15.000 euro la seconda misura invece è stata messa a punto per sostenere l'orientamento al lavoro per cittadini over 35 e over 45 disoccupati ovvero tirocini extracurricolari con 800 euro al mese per un massimo di 6 mesi e una dote di apprendimento fino a 1000 euro con il nuovo programma PN MetroPlus sono state promosse numerose misure una di queste è proprio quella che promuoverà l'iniziativa per il lavoro quindi sia tirocini all'interno di aziende che si dichiareranno disponibili ad accogliere i singoli e anche un percorso di formazione la conferenza stampa è stata anche l'occasione per presentare i dati relativi al periodo gennaio-settembre 2024 del Job Center Porta Futuro che ha visto più di 4500 nuovi cittadini iscritti al portale e oltre 6900 candidature ricevute abbiamo avuto circa 600 sessioni di ricerca attiva del lavoro nell'arco di 6 mesi che sono tantissime ovviamente le ricerche non riguardano soltanto diciamo le candidature che hanno a che fare con le offerte presenti sulla piattaforma di Porta Futuro Bari ma anche su altre agenzie del territorio con cui noi collaboriamo e ovviamente abbiamo la necessità di interfacciarsi in maniera diciamo sinergica presentati a Rimini durante il TTG Travel Experience i dati turistici dei primi 8 mesi in Puglia cresce la domanda la novità e la grande affluenza di turisti stranieri Giuseppe Bellino per i dettagli da Rimini Un trend che si conferma positivo con numeri impressionanti soprattutto sugli arrivi dei turisti stranieri la Puglia si conferma tra le mete più attrattive d'Italia e a dirlo sono i numeri Puglia Promozione ha infatti presentato durante il TTG Travel Experience di Rimini i numeri dei primi 8 mesi del 2024 crescono i turisti che scelgono la nostra regione più 9% sono 4.234.000 la maggior parte dei quali arrivano dai paesi esteri boom di stranieri con un più 20% di arrivi e più 15% di presenze abbiamo il più 20% di stranieri il più 9% di arrivi e continua anche l'estate ad essere in positivo quindi cerchiamo di voler bene a questo settore perché è un settore che crea economia ed è il 13% del PIL della Puglia e soprattutto cerchiamo in tutte le strade di campagna di evitare i rifiuti per le strade e in generale di accogliere i turisti come se fossero dei cittadini temporanei per i mesi di settembre ed ottobre le previsioni indicano una crescita degli arrivi del più 4% e un mantenimento dei valori dello scorso anno per le presenze da gennaio ad agosto di quest'anno sono stati registrati incrementi superiori al 10% degli arrivi nei mesi di marzo in concomitanza con le festività di Pasqua di maggio e di giugno risultati importanti che premiano la strategia adottata negli ultimi anni dalla regione Puglia è chiaro che i numeri ci danno la possibilità di leggere come gli italiani restano stabili ma c'è una crescita davvero importante dei turisti stranieri una crescita a doppia cifra che ci danno la dimensione di quanto la nostra destinazione sia cresciuta in termini di attrattività soprattutto su alcuni mercati che vengono consolidati e anche su mercati nuovi si è tenuto ad Altamura l'incontro Liberiamoci dal fumo organizzato dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata in collaborazione con l'associazione Una stanza per un sorriso Maria Clavastore Woody Allen va dal medico il medico gli dice no guardi lei se vuol vivere almeno una settimana in più deve smettere di fumare assolutamente ah dottore quindi se smetto di fumare campo una settimana in più certo va a casa ci riflette ci penso un po' ah camperina settimana in più e se in quella settimana dovesse piovere quindi è una scelta che uno fa cosa vuoi fare da grande anche la prevenzione è cultura e per liberarsi una volta per tutte dal tabagismo è bene diffonderne molta con questo obiettivo ad Altamura la Banca Popolare di Puglia e Basilicata in collaborazione con l'associazione Una stanza per un sorriso ha organizzato un incontro dedicato alla prevenzione oncologica con un focus sulle malattie causate dal fumo un'opportunità per confrontarsi con esperti del settore sanitario sulle conseguenze del fumo sulla salute ma anche per discutere su strategie sempre più efficaci per smettere di fumare una volta per tutte purtroppo ogni giorno ci sono sempre nuovi casi con l'età che avanza avanzano anche i casi di tumore e spesso sono legati proprio alla dipendenza del fumo i dati sono sconfortanti quindi i ragazzi sono fondamentali bisogna partire proprio da loro e la finalità di questa iniziativa è proprio quella di cercare di contaminare quindi tutte le persone che partecipano poi ovviamente devono fare diffusione ed è quello che vuole fare la banca vuole fare cultura ci preme far capire quelli che possano essere i danni legati al tabagismo alla sigaretta elettronica che ha cercato di sostituire la sigaretta classica ma anche e soprattutto all'Aicos tutte e tre però contengono la nicotina la nicotina è una sostanza che dà una dipendenza psicologica e quindi nel momento in cui uno inizia anche così per un pricio suo rimane legato quindi noi dobbiamo cercare di far capire oggi quali possano essere i danni legati alla sigaretta classica alla sigaretta elettronica o all'Aicos e cercare di invitare le persone adulte a non fumare proprio Cambiamo argomento fino al 12 ottobre la città di Bari ospiterà il Baba Festa 2024 il festival della letteratura per fanciulli da respiro internazionale che di anno in anno coinvolge realtà tra le più attive sul territorio pugliese ce ne parla Raffaella Di Renzo La sala Miura di Bari accoglie la quarta edizione del Baba Festa 2024 un festival della letteratura per l'infanzia dove le parole si trasformano in magia e i libri diventano porte verso mondi incantati questo festival interamente dedicato alla letteratura per l'infanzia si svolgerà a Bari fino al 12 ottobre è importantissimo investire nella letteratura per l'infanzia infatti in questi anni abbiamo realizzato 11 biblioteche tutte con uno spazio dedicato alla letteratura per l'infanzia perché apprezzare i libri da piccoli apprezzarli con la propria mamma col proprio papà significa essere dei lettori da grandi evento dal respiro internazionale che di anno in anno coinvolge realtà tra le più attive sul territorio pugliese il progetto nasce da un'idea della storica casa editrice milanese Baba Libri che da 25 anni propone al pubblico italiano albi, illustrate prime letture che si distinguono per la capacità di accompagnare i bambini nella crescita emotiva cognitiva e sociale io credo fondamentale la necessità di dare ai bambini l'opportunità dell'incontro con il libro incontro che avviene attraverso la famiglia avviene soprattutto attraverso la scuola ricordiamoci in Italia il 41% degli italiani legge un libro all'anno gli altri non leggono conoscere il libro significa conoscere storie per cui la Baba Festa ha questo come missione quello di far incontrare libri storie bambini ma allo stesso tempo di far conoscere ai bambini che un libro non cade dal cielo dietro un libro c'è un lavoro un lavoro dell'autore un lavoro dell'illustratore partner dell'editore nella realizzazione dell'evento è l'associazione culturale libreria Spine Book Store una giovane dinamica realtà barese apprezzata per le iniziative di promozione editoriale a livello locale e non solo questo festival nasce quattro anni fa eravamo appena usciti dal periodo della pandemia Baba Libri che è una casa editrice con cui collaboriamo da sempre compiva vent'anni noi di Spine avevamo pensato di festeggiare le sue storie immortali e universali con una festa di compleanno è nato con un'autrice e Francesca Archinto che sono venuti qui e hanno festeggiato con noi con una giornata di laboratorio e lettura e man mano negli anni è cresciuto fino a diventare quello che è oggi Andiamo dalle notizie dall'area metropolitana partiamo da Foggia dove la direzione investigativa antimafia ha sequestrato 6 milioni di euro a un noto pluri pregiudicato di Cerignola esponente di spicco della criminalità locale Nicola Saracino La direzione investigativa antimafia ha eseguito un sequestro a carico di un noto pluri pregiudicato della provincia di Foggia esponente di spicco della criminalità locale organizzata Si tratta del 50enne Pasquale Saracino di Cerignola coinvolto negli assalti ai portavalori e ai cavò degli istituti di vigilanza su cui le indagini patrimoniali hanno evidenziato come avesse investito in genti proventi derivanti dell'attività delittuose accumulando beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati al fisco coinvolte nel provvedimento 6 società tra le quali un distributore di benzina numerose autovetture di pregio disponibilità finanziarie anche in territorio estero intestate a prestanomi per un valore complessivo stimato in 6 milioni di euro questo patrimonio si aggiunge a 5 milioni e mezzo di euro già sequestrati all'indiziato a inizio 2023 l'operazione di oggi si inquadra nell'ambito delle attività finalizzate al contrasto delle ricchezze lecite e rappresenta un altro duro colpo inferto alla criminalità locale andiamo a brindisi dove l'istituzione di numerose zone 30 sta facendo discutere secondo molti il traffico cittadino si congestionerà scusate inevitabilmente a causa dei nuovi limiti di velocità ce ne parla Riccardo Celli sono giorni di polemica a brindisi a causa della scelta del sindaco Giuseppe Marchionna di istituire numerosissime zone 30 la scelta che sin da subito ha scaturito non poche critica è stata fatta per arginare il problema delle tante strade dissestate presenti in città ma secondo molti potrebbe paralizzare l'intero traffico cittadino la questione delle zone 30 è stata introdotta e posta in relazione alla incapacità dell'amministrazione di fronteggiare l'obbligo di manutenere le strade cittadine e l'incapacità sia finanziaria che gestionale di far fronte agli interventi manutentivi necessari risolvendoli solo e esclusivamente con l'introduzione di zone 30 sconsiderate su tratti assolutamente ad alto scorrimento della città che porteranno inevitabilmente a una congestione del traffico non credo possa e debba essere questa la soluzione per far fronte alla incapacità sia pure finanziaria ma anche gestionare l'amministrazione di far fronte a quelli che sono i suoi obblighi di manutenzione Andiamo a Taranto l'anfiteatro nella capitale della Magna Grecia c'è ed è situato sotto l'ex mercato coperto attualmente destinato a parcheggio uno studio per ridargli vita Angelo Ingenito Lì sotto c'è qualcosa di estremamente interessante attualmente vi sono un parcheggio e alcuni uffici comunali circostanti insieme ad alcuni esercizi commerciali tuttavia attraverso scavi potremmo recuperare e preservare un frammento dell'antica storia della città la conferma è stata fornita dal professor Francesco D'Andrea archeologo che insieme al consigliere comunale Gianni Liviano ha lanciato la sfida di portare alla luce i resti dell'anfiteatro romano sotto di esso potrebbero esserci tracce di reperti ancora più antichi come quelli di un teatro greco parliamo della zona dell'ex mercato coperto situata nella via denominata via anfiteatro grazie all'iniziativa avviata da alcuni mesi la sovrintendenza ha avviato uno studio georadar per verificare la presenza residua dell'anfiteatro romano le cui tracce erano state precedentemente identificate durante scavi parziali condotti nel corso dei decenni ancora oggi in un angolo dell'ex mercato coperto si può osservare un piccolissimo frammento dei resti di un'antica costruzione maestosa i risultati dei rilievi estivi sono stati presentati durante il recente convegno di studi sulla Magna Grecia dalla soprintendente romana Paolillo la nuova soprintendente Paolillo è stata molto sensibile e il primo atto o uno dei primi atti da lei promosso è proprio la ricerca geofisica affidata ad una bravissima archeologa Laura Cerri ha fatto queste indagini georadar con uno strumento anche abbastanza semplice che però permette di arrivare ad una profondità di più di tre metri nel sottosuolo e ha praticamente confermato l'idea che ci sia questo edificio che sia conservato in alcune parti di più e in alcune parti di meno e ha proposto anche una pianta dell'anfiteatro che diciamo corrisponde come dimensioni all'anfiteatro di Lecce bene siamo in chiusura di questa edizione del nostro telegiornale non mi resta che ringraziarvi per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata un saluto ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo nella giornata di venerdì la perturbazione giunta sul nord Italia si allontanerà velocemente verso Levante favorendo dunque un miglioramento su gran parte del nostro paese infatti osservando più da vicino la mappa delle precipitazioni notiamo come ci sarà giusto qualche residuo di disturbo sul basso terreno all'inizio di giornata forse anche sul Friuli Venezia e Giulia ma per il resto la situazione vede un deciso miglioramento con il ritorno del sole un po' ovunque vediamo quindi il tempo che ci aspetta sull'Italia sarà una giornata all'insegna del sole su molte regioni giusto una residua variabilità a inizio di giornata sui versanti terrenici verso il Friuli Venezia e Giulia con un flusso di correnti che resta ancora occidentale temperature che rimangono al di sopra delle medie in particolare al sud con punti anche di 25-26 gradi giusto qualche banco di nebbia non mancherà al primo mattino sulla Val Padana ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trebi Meteor grazie a tutti grazie a tutti